salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere come poter limitare l'effetto sfocato presente in f1 2022 f1 manager 2022 perché appunto a me personalmente quell'effetto non piace moltissimo ma purtroppo all'interno del gioco non abbiamo possibilità di intervenire a riguardo ma per fortuna andando a modificare un parametro all'interno dei file di configurazione del gioco possiamo limitarlo non vi preoccupate non comporta nessun tipo di problema né al gameplay né ai vostri salvataggi è semplicemente la modifica di un parametro reversibile in qualsiasi momento quindi se la volete provare vedete le differenze se vi piace la tenete altrimenti la riportate come era prima e veramente per il gioco è una cosa abbastanza trasparente quindi non non vi preoccupate allora andiamo a vedere come come fare andiamo ad aprire esplorare risorse e ora vi faccio vedere la procedura per per windows 11 diciamo ma alla fine dei conti è uguale anche per windows 10 non cambia moltissimo quindi una volta aperto esplorare risorse andiamo nella barra degli indirizzi qui in alto e andiamo a scrivere percentuale percentuale app data percentuale diamo invio e lui automaticamente ci porta in un percorso a noi però non interessa la cartella in questione e quindi andiamo a cliccare su app data lui ci porta un passo indietro e andiamo a cliccare invece sul local andiamo a scorrere finché non troviamo la cartella f1 e qui andiamo ad aprire il file game user setting punto vini ora se non avete aperto mai una tipologia di questo di questo file potrebbe comparire un pop up che vi chiede con quale programma aprirlo potete selezionare benissimo blocco note come fatto io insomma la voce che dovremmo andare a modificare è questa qui sg punto pass process quality di default settato su 3 noi andiamo a cancellare il 3 e impostiamo lo 0 dopo di che andiamo su file e andiamo su salva ora prima di lanciare nuovamente il gioco e vedere se effettivamente ci sono state delle migliorie o meno dobbiamo andare a rendere di sola lettura il file questo ci serve perché nel momento in cui noi lanciamo il gioco lui farebbe il check diciamo sui file e andrebbe a modificare nuovamente quel parametro che abbiamo toccato noi vanificando diciamo la nostra modifica quindi dobbiamo renderlo appunto di sola lettura per farlo tasto destro proprietà andiamo in basso dove c'è scritto attributi sola lettura facciamo applica e facciamo ok ora abbiamo la possibilità di lanciare il gioco e vedere appunto se le modifiche fatte ci piace non ci piace oppure è indifferente magari non vediamo sostanziali differenze da doverla mantenere quindi nel caso in cui noi vogliamo tornare indietro non ci basterà altro che andare sul file quindi tasto destro proprietà e come vi ho spiegato prima andare a togliere la spunta di sola lettura in questo caso lanciando nuovamente il gioco come vi ho spiegato in precedenza lui andrà a modificare automaticamente il parametro risettandolo sul valore 3 e quindi la modifica verrà annullata ovviamente prima di effettuare qualsiasi modifica al file se volete stare più sicuri anche voi potete benissimo copiare il file magari sul desktop facendovi una copia di backup ma vi ripeto se fate quello che vi ho fatto vedere non ci sono nessun tipo di problema poi se andare a pasticciare su altri file io arzo le mani e sono diciamo a fare i vostri non ho provato altri parametri magari vi chiederete perché si passa da 3 a 0 direttamente ovviamente lo 0 è la disattivazione di quella tipologia di effetti quindi non so cosa capita se magari mettiamo un valore 1 o 2 si vede che magari va a spegnere soltanto determinati effetti quali sono questo non so dirvelo quindi se volete fare delle prove fatele voi magari fatemi sapere nei commenti che cosa cambia allora direi che è tutto abbastanza semplice e veloce fatemi sapere nei commenti se anche voi avete notato differenze io in verità una volta che l'ho inserita non sono più tornato indietro perché mi piace molto di più la profondità di campo specialmente quando siamo magari in visuale on board che abbiamo un po' più di profondità appunto della pista e quant'altro ovviamente questa tipologia di effetto andando a spegnere a spegnerle di altri fa tirare fuori qualche magagna come per esempio in alcuni casi si può vedere le ombre delle gomme come se si sdoppiassero insomma sono effetti che appunto l'effetto sfocato andava un po' a mascherare però ripeto è una cosa veramente veloce 5 minuti lanciate il gioco fatevi un giretto per vedere se magari i benefici superano i difetti che potete visualizzare visualizzare magari non ci fate neanche caso potete mantenerla o meno fatemi sapere insomma nei commenti se vi è stato utile come è modifica quindi io per il momento vi saluto vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo in descrizione trovate i link a tutti i miei social network al server discord alla mia attrezzatura e vi invito anche a visualizzare la playlist di f1 manager 22 che stiamo facendo la carriera quindi insomma siamo lanciatissimi con la nostra ass per cercare di trovare dei buoni piazzamenti nel gran premi insomma quindi io di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao ciao ciao